Apparentemente un'azienda agricola incontrata a Tafuri ad Andria e Rialtana scondeva una serra ricavata in una cisterna in pietra interrata e servita da impianti di irrigazione e ventilazione elettrici dove erano coltivate oltre 400 piante di marijuana alte oltre un metro. E la scoperta fatta dai carabinieri della sezione operativa del NORM assieme ai militari della stazione di Andria l'heliportato cacciatori di Puglia che hanno arrestato il titolare dell'azienda. Si tratta di un 34enne incensurato che è stato portato in carcere. Le piante avevano un peso complessivo di 250 chili. L'attività di perquisizione ha consentito di trovare anche altri 80 grammi della stessa sostanza già essiccata oltre ad alcune radio ricetrasmittenti e alcuni mezzi agricoli sui quali sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza. La sostanza stupefacente ricavabile dalle piante se immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare circa 300.000 euro.